Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi e sono tornato dalle vacanze e purtroppo qui fa molto freddo. Ero vestito come ero al mare con i calzuccini corti, la maglietta, mezze maniche, leggera. E' qui che ho detto, se non sto attento mi beccano il raffreddore che dopo mi passano, però il virus mi ricoverano. Insomma sono stato due o tre giorni con quel vestito così, poi dopo vedevo che non cambiava e allora mi sono messo qualcosa di più pesante. Per essere anche più sicuro che non mi venga un raffreddore o qualcosa del genere. Niente, spero che le cose vadano meglio e vi saluto tanto e arrivederci.